Come se non bastasse la vicenda dell'ICI non pagata sulla casa palestra, un altro scandalo si abbatte su Giusefa Idem, ministro delle pari opportunità del governo Letta. Il nuovo caso risale a 2006, quando l'ex campionessa, solo pochi giorni prima di diventare assessora allo sport del comune di Ravenna, viene assunta dal marito Guglielmo Guerrini nell'associazione dilettantistica canoa kayak standiana che lui stesso presideva. Un impiego durato pochi giorni prima di mettersi in aspettativa. L'accusa è di avere sfruttato una norma che prevede appunto per gli assessori comunali in aspettativa di poter usufruire, oltre che dell'indenità di carica, anche del versamento da parte del comune degli oneri previdenziali per tutta la durata dell'incarico comunale. Insomma, il sospetto è che l'assunzione nell'associazione diretta dal marito sia stato solo un escamotasi per far pagare al comune i contributi. In tutto si è trattato di 183 giorni lavorativi per un costo complessivo di 8.642 euro. Contemporaneamente all'incarico comunale però è terminato anche l'impiego dell'ex campionessa nell'associazione. La coincidenza viene rimarcata nell'esposto presentato da un consigliere della lista civica per Ravenna ed è finita al vaglio della procura della città. Su quest'ultimo episodio ancora il ministro non si è pronunciato, mentre sul mancato pagamento dell'ICI ha invocato la sua buona fede spiegando di essere stata mal consigliata. La casa in questione, ha detto, è sempre stata la palestra personale dove si allenava, mentre la gestione dei suoi affari è sempre stata delegata ad altre cause degli impegni di lavoro che la portavano spesso all'estero. Il nuovo caso sta mettendo in grave difficoltà non solo la protagonista, ma anche il Partito Democratico e soprattutto il presidente del Consiglio a Rigoletta, che sarebbe intenzionato a sostituirla. Sullo sfondo intanto prosegue la polemica sulle pesanti accuse a Giuseppe Idem dell'europarlamentare Borghezio della Lega Nord. In molti hanno espresso solidarietà al neoministro, a cominciare dalla collega di inintegrazione, Cécile Chieng, presa di mira anche lei da alcuni leghisti per la sua campagna a favore dello Jussol. Il carroccio ha ventilato una mozione di sfiducia. Alcuni esponenti del Partito Democratico hanno chiesto al presidente del Consiglio chiaramente sulla vicenda, altri disselle le sue dimissioni. Lei intanto ha convocato per le tre di questo pomeriggio una conferenza stampa a Palazzo Chigi.